Buonasera a tutti. Scusate del ritardo, ma cerchiamo di recuperare subito. Solo un saluto e un ringraziamento ai nostri relatori di oggi. Relatori credo che tutti voi conosciate. La dottoressa Galli, nostro giudice delegato. Il professor Rolandino Guidotti. La professoressa Elisabetta Pedersini, che anche se non insegna a Modena, però è modenese doc. Per cui possiamo definire la nostra collega. E l'avvocato Mario Leoni. L'argomento... Non so se ti hanno passato di grado. E' di buon auspicio. Come avete visto, l'argomento di oggi è veramente impegnativo. Argomento molto particolare che finisce un po' con una provocazione, questa domanda. se è appunto la responsabilità degli amministratori è possibile paragone con la responsabilità del medico. Anche per questo un po' la presenza dell'avvocato Mario Leoni, che sappiamo tutti essere il nostro massimo esperto di responsabilità professionale. Proprio per recuperare un po' il tempo che abbiamo perso, lascio la parola alla dottoressa Galli, che sarà lei a coordinare la seduta di oggi. Diciamo che l'incontro nasce fondamentalmente dall'ordinanza che immagino abbiate letto tutti, dell'ordinanza della Cassazione, di rimessione alle Sessioni Unite e della questione appunto della diminutazione dell'area del danno risarcibile alle nazioni di responsabilità promosse ai sensi del 146 della legge fallimentare. La riassumo perché comunque poi credo che sarà approfondita dai nostri relatori. solo per dare appunto un quadro di insieme, il caso concreto veniva appunto da l'amministratore unico di una società, di una SRL, condannato dal Tribunale di Napoli, il quale era avvisato responsabilità per il fatto di, quindi, il caso proprio più problematico della omessa tenuta delle scritture contabili, che non aveva permesso al curatore di ricostruire la situazione e le vicende societarie e con quantificazione del danno pari sostanzialmente al disavanzo fallimentare, e quindi passivo fallimentare, se non c'è attivo, oppure passivo meno attivo. La Corte d'Appello ha confermato, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato, rilevando e puntualizzando alcuni temi caldi, che sono sostanzialmente quello di affermare la natura della responsabilità dell'amministratore come responsabilità contrattuale, da cui discende a cascata un'onera della prova a carico del ricorrente, per quanto riguarda la violazione dell'obbligo inerente alle funzioni gestorie, il nesso di causalità tra violazione e danno, e dall'altro lato l'onere invece probatorio per l'amministratore di mostrare la non imputabilità. Sul punto della liquidazione del danno però afferma il principio per cui nel caso in cui l'omessa o irregolare tenuta dalle scritture contabili non hanno consentito al curatore di quantificare il danno, comporta di fatto un'inversione dell'onere della responsabilità e la legittimazione ha una presunzione di danno appunto pari al disavanzo. La Corte di Cassazione rimette la questione alle sezioni unite dal momento che, come voi tutti sapete, la stessa Corte aveva espresso degli orientamenti diversi in merito alla questione centrale, e cioè sull'utilizzabilità ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno di questo, diciamo, della differenza tra attivo e passivo. E nel caso in cui a questa domanda si dia risposta positiva, quindi se è possibile utilizzare questo criterio, a quali condizioni? Nell'ordinanza poi vengono ripercorsi un po' quelli che sono gli orientamenti, e cioè l'orientamento che, diciamo, considerava l'omessa tenuta dalle scritture contabili o l'irregolare tenuta dalle scritture contabili come condizione legittimante exe all'utilizzo di questo criterio, ha invece un orientamento un po' più rigoroso, che, diciamo, faceva rientrare la prova del danno sostanzialmente nell'ambito dei criteri ordinari di accertamento del danno in materia di inadempimento contrattuale, per cui anche in questo caso si sarebbe dovuto provare il nesso di causalità tra la violazione, il danno e l'imputabilità e ricorrere a criteri equitativi solo dando giustificazione dei motivi per cui non si è potuto raggiungere una quantificazione di tipo diverso. Diciamo che poi l'ordinanza della Cassazione si spinge ancora più avanti ed è questo il motivo per cui, appunto, abbiamo detto che c'è qui anche oggi l'Avvocato Leoni e dice che se si vuole ricondurre nell'ambito della ricostruzione di onere della prova e responsabilità, la tematica delle responsabilità degli amministratori, bisognerebbe forse anche equiparare a quanto statuito dalla Cassazione in materia di responsabilità medica, per cui nel caso in cui il medico abbia tenuto male o abbia, sì, abbia mal compilato la cartella medica del paziente, ci possa, in questo caso, ci possa essere una presunzione di responsabilità del medico. Tutti noi, e questo lo anticipo, vediamo sinceramente poche analogie con il nostro caso, nel senso che, diciamo, noi qui oggi parleremo, diciamo, di criteri equitativi di risarciare un criterio equitativo della liquidazione del danno e discuteremo se in questo ambito è possibile farlo, ma invece è pacifico che la liquidazione del danno in ambito di responsabilità medica è equitativa e eventualmente una presunzione, nel caso, ad esempio, di regolare tenuta della cartella, riguarda eventualmente la colpa o comunque l'onere della prova in quell'ambito, non senz'altro nell'ambito della liquidazione. Comunque, insomma, poi questo ne parlerà l'Avvocato Leoni. Quindi adesso comincia. Direi che comincio io. Buongiorno a tutti. Allora, l'idea è quella che ha detto la dottoressa Galli, cioè questa ordinanza di rimessione alle sezioni unite che vorrebbero fare un paragone tra la responsabilità degli amministratori di SPA, tra la responsabilità degli amministratori e la responsabilità del medico. Cosa che in prima battuta mi ha lasciato perplesso, molto perplesso e più ho provato a cercare di ragionare, più la sensazione era quella del mal di mare. Cioè nel senso che io non sono riuscito a trovare la quadratura del cerchio. Quindi la mia idea è di partire prima facendo, inquadrando un momento, la disciplina della responsabilità degli amministratori di SPA per quanto sia funzionale al ragionamento che poi farà l'Elisabetta Pedersini. Tenendo presente che parliamo di SPA e non di SRL, in realtà l'ordinanza ha come una delle parti processuali dell'ordinanza è una società a responsabilità limitata. Noi parliamo di SPA perché paradossalmente nella società per azioni i problemi che affrontiamo sono più semplici perché in realtà il contesto normativo nel quale ci muoviamo nella società per azioni è molto più chiaro. Voi sapete che la disciplina dell'SRL post-riforma è una disciplina in cui l'autonomia privata la fa la padrona ma non solo l'autonomia privata la fa la padrona e quindi tutte le volte l'immanenza della derogabilità delle norme crea mille problemi. Ma soprattutto non è così chiaro nell'SRL il rapporto tra organo gestorio e le decisioni dei soci e l'Assemblea. quindi il punto di riferimento, il ragionamento che noi proviamo e vi ripeto a fare oggi pomeriggio è basato sulla disciplina della società per azioni perché io temo che se ragionassimo sulla disciplina della società di responsabilità limitata il ragionamento sarebbe ancora più articolato e ancora più difficile da portare a termine. La disciplina della responsabilità degli amministratori di società per azioni è noto a tutti e si divide in tre parti da un lato gli amministratori sono responsabili nei confronti della società ai sensi dell'articolo 2392 c'è poi una responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali 2394 e c'è poi una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci o terzi. La responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci o terzi la accantoniamo. Vediamo un momento qual è l'ambiente nel quale dobbiamo muoverci per ragionare sulle due responsabilità quella degli amministratori nei confronti della società e quella degli amministratori nei confronti dei creditori sociali anche perché anticipo queste azioni ex articolo 2392 e 2394 sono poi quelle che richiama il 2394 bis e il 146 della legge fallimentare e quelle che rilevano ai fini dell'azione di responsabilità in sede fallimentare perché voi sapete che in sede fallimentare non senza problemi si sommano per disposizione di legge le azioni promosse dalla società quando lo stai in bonus e quella dei creditori sociali. Ora, verso la società gli amministratori di società per azioni sono responsabili per l'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo. qui bisogna essere chiari però sul fatto che dopo la riforma del diritto societario la responsabilità verso la società degli amministratori è una responsabilità che non è più, che non ha più niente con il vecchio criterio che veniva utilizzato dalla giurisprudenza precedente che in qualche modo riteneva che non ha più niente in comune con il vecchio criterio utilizzato dalla giurisprudenza pre-riforma del diritto societario che in qualche modo riteneva che la responsabilità degli amministratori potesse essere una sorta di responsabilità oggettiva. La stessa relazione alla riforma del diritto societario voleva scardinare questo meccanismo. Oggi gli amministratori di S.P.A. devono adempiere i loro doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Sulla natura dell'incarico, su cosa voglia dire la novellata prima parte del primo comma del 2392 si sono spesi fiumi di inchiostro è sicuramente però una cosa fondamentale quella secondo cui il parametro della diligenza che serve poi ovviamente a valutare la responsabilità degli amministratori è un parametro che va valutato con la natura dell'incarico proprio con riferimento alla natura dell'incarico e alle specifiche competenze degli amministratori. Dico queste cose in maniera elementare e apodittica per dire che conta proprio per evitare quel meccanismo di responsabilità oggettiva in cui la giurisprudenza incappava prima della riforma del diritto societario il legislatore della riforma dà rilevanza alla natura dell'incarico che l'amministratore ricopre all'interno del consiglio di amministrazione e alle sue specifiche competenze e quindi se è vero come si continua a dire che la responsabilità dell'amministratore deve essere sempre parametrata alla diligenza del mandatario di cui è l'articolo 1710 ossia alla diligenza richiesta nel nostro ordinamento dall'articolo 1176 con riferimento all'obbligazione di mezzi e intanto così vi ho detto che è pacifico che l'obbligazione degli amministratori sia un'obbligazione di mezzi in realtà tutto questo va calato in un contesto societario e bisogna pensare a dei consigli di amministrazione molto articolati in cui questa diligenza va parametrata lo ripeto con riferimento alla natura dell'incarico dell'amministratore riveste all'interno del consiglio del comitato esecutivo e alle sue specifiche competenze sue specifiche competenze bisogna fare riferimento lo dico in maniera elementare ma perché il discorso potrebbe molto in là alle capacità dell'amministratore anche tecniche di comprendere qual è l'operazione sulla quale sta votando tenete presente che unita a questa novella questo nuovo testo del 2392 primo comma non esiste più un generale dovere di informazione dell'amministratore cioè scusate di vigilanza dell'amministratore sull'operato degli altri amministratori proprio perché la riforma del diritto societario ha voluto scardinare quella sorta di responsabilità oggettiva nella quale si rischiava di cadere tutte le volte che gli amministratori venivano che nei confronti degli amministratori veniva esercitata un'azione di responsabilità altre cose che vi dico in maniera apodittica ma senza riuscire a senza riuscire ad approfondire è pacifico che ai fini della valutazione dell'amministratore la valutazione debba essere fatta sempre ex ante come è pacifico che ai fini della valutazione del comportamento dell'amministratore il cattivo risultato della gestione non sia mai sinonimo di inadempimento e quindi di responsabilità questa è una cosa dalla quale bisogna è proprio un meccanismo mentale dal quale bisogna liberarsi perché il cattivo risultato di gestione non è di per sé logicamente giuridicamente sinonimo di inadempimento perché l'amministratore non deve garantire che la gestione della società sia attiva il rischio di impresa è in capo ai soci e un altro passaggio duro e forse nella nostra giurisprudenza non è abbastanza coraggioso su questo profilo è che è quello in base al quale bisogna affermare che il merito della gestione degli amministratori la business judgment rule non deve mai poter essere riverificata dall'autorità giudiziaria che non può giudicarla cioè bisogna che noi creiamo una protezione agli amministratori proprio perché la rule nel diritto americano è proprio vista come una scelta come una protezione degli amministratori che devono poter scegliere loro e non vedersi mai valutate exposte la scelta di opportunità e di convenienza della loro decisione se si guarda la giurisprudenza è molto più la giurisprudenza americana sotto questo delle corte americane è molto più chiara cioè l'esercitare della nostra l'esercitare l'attività di impresa comporta dei rischi dobbiamo lasciare liberi gli amministratori di fare delle scelte dobbiamo lasciare liberi di fare delle scelte anche azzardate perché se così non facciamo gli amministratori che come tutti gli uomini possono sbagliare e non sono in grado di assicurare il successo delle loro azioni non ci garantiranno il progresso economico e quindi dobbiamo lasciare loro la discrezionalità e dobbiamo lasciare loro di poter fare delle scelte impopolari nei confronti dei soci questi questa è una garanzia nei confronti degli amministratori che sono protetti dalla rule proprio perché non devono potersi trovare con un esame a posteriore delle loro scelte ovviamente nel momento in cui si pretenderebbe di valutare l'opportunità e la convenienza di quella determinata decisione questo è un meccanismo attraverso il quale si vuole proteggere l'amministratore se la decisione assunta con una diligenza ragionevole abbia poi portato delle perdite in maniera ancora apodittica si può dire che nel valutare queste cose senza mai valutare l'opportunità e il merito delle decisioni degli amministratori il giudice deve sedersi sulla sedia degli amministratori ma nel momento in cui questa scelta è stata assunta perché ovviamente a posteriori tutti siamo in grado di capire se una scelta gestionale è stata opportuna o meno in questo quadro di in questo quadro di in questo quadro quindi il giudice deve limitarsi e torno in questo proprio al diritto al diritto nostro interno nel verificare queste cose deve limitarsi a verificare se gli amministratori hanno osservato la legge alla legge o dall'atto costitutivo punto mi verrebbe da dire cioè ogni passaggio ulteriore è un passaggio improprio in realtà la giurisprudenza poi queste regole che io sto dicendo in maniera così rozza e così apodittica di queste regole non sempre fa un uso diligente la responsabilità degli amministratori nei confronti della società e quindi è per la violazione delle norme di legge dell'atto costitutivo la diligenza va parametrata la diligenza del mandatario va parametrata la natura dell'incarico alle specifiche competenze del singolo amministratore cambiamo punto di vista gli amministratori sono responsabili anche nei confronti dei creditori sociali è una responsabilità che ha presupposti diversi e spesso si creano degli equivoci perché la responsabilità nei confronti dei creditori sociali certo può riguardare gli stessi fatti materiali ma in realtà i presupposti giuridici della responsabilità nei confronti dei creditori sociali sono presupposti diversi intanto qua dico una cosa banalissima cioè nel senso che questa responsabilità nei confronti dei creditori sociali è una responsabilità che non è stata modificata dalla riforma del 2003 nei confronti dei creditori sociali gli amministratori sono responsabili solo per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale solo per questa inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale e l'azione ex 2394 dei creditori può essere proposta dei creditori solo quando il patrimonio sociale risulti insufficiente alla soddisfazione dei loro crediti se il patrimonio è capiente indipendentemente dagli inadempimenti degli amministratori evidentemente i creditori non hanno nessun interesse a che questi siano chiamati in responsabilità è quindi pacifico che sia possibile che gli amministratori siano responsabili nei confronti della società e non nei confronti dei creditori sociali qui poi sorgono una serie di problemi di coordinamento di queste azioni io do per presupposto oggi ragioniamo fingendo che anche l'azione dei creditori sociali sia un'azione di natura contrattuale così come è sicuramente un'azione di natura contrattuale quella esperita dalla società nei confronti degli amministratori in realtà io do per presupposto questa do per presupposto quanto vi ho appena detto ed è tutto altro che pacifico che la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali abbia natura contrattuale lo do per presupposto perché se no ci complichiamo nell'esposizione la vita in ce la complichiamo troppo più di quanto come vedrete tra un po' la situazione sia oggettivamente complessa io dico che questa azione a natura contrattuale fingendo che nel momento in cui gli amministratori contravvengono al loro dovere di rispetto degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale stiano violando, siamo di fronte a un inadempimento di quest'obbligo imposto dalla legge e quindi ricadiamo di nuovo in una violazione delle disposizioni di qui sopra. In realtà per esempio è mancato da poco tempo, il professor Galgano continua a ritenere che questa che è l'azione dei creditori sociali, è continuata a ritenere che l'azione dei creditori sociali andasse inquadrata nella lesione quigliana del credito e anche relativamente di recente la Cassazione 12 giugno 2007 ha ritenuto che in realtà si trattasse di un'azione di natura extra contrattuale. Sul punto si discute che io sappia da circa una cinquantina d'anni senza che si sia mai arrivati ad un approdo specifico e anche a un approdo definitivo. È anche vero che siccome le azioni dei creditori sociali, quantomeno fino a ieri l'altro, normalmente venivano esercitate dal fallimento ed erano abbastanza rare nei confronti di amministratori di società in bonus il problema della natura dell'azione di responsabilità dei creditori sociali spessere un problema di scarsa rilevanza pratica perché quest'azione di cui l'articolo 2394 ex 2394b 646 della legge fallimentare andava a sommarsi all'azione della società che andava in capo al curatore e quindi in realtà le due azioni venivano unite e quindi le differenze sostanziali tra la responsabilità contrattuale e quella extra contrattuale e cioè su cui incombe l'onere della prova per essere ancora più diretti il problema fondamentale veniva risolto dal fatto che le due azioni venivano sommate. L'azione dei creditori sociali oltre a non essere chiaro se sia un'azione di natura contrattuale o extra contrattuale ha anche una prescrizione diversa da quella dell'azione sociale di responsabilità perché l'azione sociale di responsabilità può essere esercitata entro cinque anni dalla dall'accessazione dell'amministratore dalla carica 2393 terzo comma che non dice altro che non ripete altro che quanto dicono il 2949 comma secondo e 2941 primo comma numero 7 ed è vero che anche l'azione di responsabilità esercitata dai creditori sociali ha un termine di prescrizione di cinque anni ma questo termine di prescrizione non decorre dal momento in cui cessa l'amministratore dalla carica ma decorre dal momento in cui risulta insufficiente il patrimonio sociale o comunque i creditori potevano avere conoscenza con l'ordinaria sufficienza i creditori legittimati all'esercizio di azione potevano avere conoscenza con l'ordinaria diligenza di questa insufficienza. Altro problema parallelo che non necessariamente si interseca con quello della natura contrattuale o extra contrattuale dell'azione dei creditori sociali è quello anche questo senza una soluzione certa se l'azione dei creditori sociali sia un'azione diretta o un'azione surrogatoria. Non è solo un problema, vi dico che questo non è solo, è un problema molto più rilevante rispetto a quello, paradossalmente è un problema molto più rilevante rispetto a quello della natura della responsabilità. Perché in realtà in base sostenendo che l'azione dei creditori sociali sia un'azione diretta, autonoma e non un'azione surrogatoria di quella non esercitata della società nei confronti degli amministratori non riusciamo a parlarne in maniera diffusa, però in realtà è molto più semplice far sì e sostenere che l'azione dei creditori sociali possa essere esercitata anche nei confronti degli amministratori di una società ammessa a un concordato preventivo e anche omologato. Cioè è molto più facile sostenere che rimangano responsabili nei confronti dei creditori sociali gli amministratori di una società ammessa al concordato e anche una volta che il concordato è omologato. C'è una sentenza del Tribunale di Piacenza 12 febbraio 2015 che in maniera articolata proprio fa questo ragionamento e si riallaccia a una serie di precedenti giurisprudenziali, tra l'altro ovviamente voi sapete che il numero dei concordati è esploso negli ultimi anni e quindi se questa giurisprudenza si continuerà a far strada evidentemente si aprono delle possibilità di recupero dei crediti che una volta non c'erano perché di fatto le esperienze che ho avuto io professionali di azioni di responsabilità fatte come creditore nei confronti degli amministratori di società ammessa la procedura di concordato preventivo sono state respinte perché i Tribunali per vari motivi hanno sempre ritenuto che non fosse possibile esperire questo tipo di azioni, che l'azione fosse inammissibile anche per gli effetti sdebitatori del concordato, mi sembra il 184 e mi sembra il 184 della legge fallimentare ma posso sbagliarmi. Sotto profilo teorico poi se l'azione dei creditori sociali sia un'azione surrogatoria ex articolo 2900 o se sia un'azione diretta ha una serie di conseguenze perché se si tratta di un'azione surrogatoria i creditori che esercitano l'azione sono evidentemente esposti a tutte le eccezioni che gli amministratori possono opporre alla società. Se si tratta di un'azione surrogatoria quanto corrisposta agli amministratori rispetto alla società e non direttamente ai creditori. Se si tratta di un'azione surrogatoria i creditori avranno un beneficio solo in diretto per l'infetto dell'incremento del patrimonio sociale ma solo in diretto. Se si tratta di un'azione surrogatoria deve essere chiamata in causa anche la società. Se invece si tratta di un'azione diretta come mi sembra che la giurisprudenza da ultimo si sia orientata a ritenere anche se onestamente non ho fatto un'indagine statistica che si tratta di un'azione. I creditori non sono tra l'altro tenuti a citare in giudizio la società e la sospensione della prescrizione non opera con riferimento all'azione dei creditori sociali. Quindi non trova applicazione il 2393. Quarto comma. Tornando un momento al rapporto tra queste due azioni quella nei confronti quella la responsabilità degli amministratori nei confronti della società e la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali. Vi ho detto prima che la natura di quest'ultimo tipo di azioni di responsabilità contrattuale e oggi diciamo convenzionalmente così sia o extra contrattuale in realtà perde abbastanza del suo significato pratico nel momento che le azioni dei creditori sociali vi dicevo fino a ieri normalmente venivano esperite in sede concorsuale e ai sensi del 2394 bis in caso di fallimento liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Soggetti che sommano le due azioni. Di fatto quindi il problema dell'onere della prova ha sempre avuto una rilevanza su questo tipo di azioni esercitate dai curatori una rilevanza del tutto dimensionata. Io però ho trovato una giurisprudenza che non so qual effetto pratico possa avere che dice però una cosa un po' diversa e forse inquadra sistematicamente questa somma di azioni in maniera corretta perché dice che il fatto che il curatore norma dell'articolo 146 stia esperendo entrambe le azioni sta solo a significare che il medesimo curatore non potrebbe pretendere di esercitare separatamente tale azioni al fine di conseguire due volte il ripristino del patrimonio della società fallita cui dette azioni concorrono. Ma questa espressione non può essere invece intesa nel senso della indifferenziazione delle domande proposte dall'organo della procedura ai sensi dell'articolo 2392 e dell'articolo 2394. Domande prosegue questa motivazione che dice che seppur accomunate dalla legge continuano a rimanere distinte con presupposti distinti e con regimi probatori distinti. In questa situazione si inserisce come ha detto la dottoressa Galli questa ordinanza di rimessione alle sezioni unite che in qualche modo vuole risolvere, pretenderebbe che le sezioni unite risolvessero il problema della quantificazione del danno sulla responsabilità degli amministratori su queste azioni esercitate dal curatore nei confronti degli amministratori ex articolo 2392 come ho appena detto e 2394. Il quesito al quale dovranno rispondere le sezioni unite è se abbia un senso l'utilizzabilità del dato costituito dalla differenza tra attivo e passivo fallimentare e se la risposta sia positiva quali siano le condizioni e i limiti entro le quali questo dato sia utilizzabile. Cosa succede? Cosa è successo nella pratica? Che talvolta i tribunali abbiano, hanno considerato che l'ammontare del danno al quale gli amministratori erano tenuti a seguito di quest'azione congiunta ex articolo 2392-2394 e semplicemente la differenza tra l'attivo e il passivo. A me manca il fiato quando dico questo perché io ho sempre considerato questo tipo di soluzione una forzatura incredibile perché in realtà la responsabilità degli amministratori è una responsabilità per fatto proprio e quindi si fa fatica a capire come, lo dico ancora in maniera apodittica e mi perdonate, come l'indempimento della mancata tenuta della contabilità possa essere conseguenza diretta del risarcimento di tutto il danno che viene quantificato per la differenza tra attivo e passivo. In realtà la giurisprudenza dà una spiegazione alla soluzione che adotta, cioè tenta di ricondurre il problema all'accorrettivo, a uno degli orientamenti che cerca di correggere i principi dell'onere della prova, cioè quello della viginanza della prova per dare rilevanza alla mancata tenuta delle scritture contabili come strumento per poter quantificare il danno nella differenza tra l'attivo e il passivo. Qua, in questa ordinanza di rimissione, a un certo punto dice dobbiamo porci il problema se questo criterio in materia societaria sia un criterio che possiamo continuare ad adottare, se possiamo continuare ad adottare, entro che limiti possiamo continuarlo ad adottare e in questa ordinanza di rimissione a un certo tempo ci dice ma sì, ma poi in fondo quello che stiamo dicendo non è una cosa così strana perché anche in tema di responsabilità medica viene utilizzato lo stesso criterio. Cioè nel caso in cui il medico ometta di tenere la cartella clinica può essere ritenuto responsabile e questo è un elemento attraverso il quale si può ritenere responsabile. Posto che ci registrano io cercherò di essere più neutro possibile nell'affrontare l'argomento e a me sembra che ci siano una serie di forzature non piccole forzature già non condividevo la giurisprudenza che già non condividevo, anzi consideravo sbagliata radicalmente la giurisprudenza che quantificava il danno sulla differenza tra l'attivo e il passivo perché saltava secondo me alcuni passaggi logici intendiamoci bene ma perché si è formata questa giurisprudenza che non è solo dei tribunali, delle corti certe volte succede anche nei collegi arbitrali ma perché è comodissimo quantificare il danno con questo sistema cioè la ragione vera di questo gioco e vi dico non capita solo davanti all'autorità giudiziaria ordinaria ma capita anche nei collegi arbitrali quando si deve trattare la tendenza qual è? quella di ammettere una consulenza in cui si fa il calcolo più semplice possibile la differenza tra l'attivo e il passivo oppure addirittura quello di ammettere delle consulenze che diano ai consulenti la possibilità di guardare io ho visto dei quesiti che fanno a caponare la pelle guardi il consulente come si sono comportati gli amministratori nel periodo dal AL ma per agire in responsabilità soprattutto per agire in responsabilità anche per agire in tema di responsabilità contrattuale a mio modesto avviso bisogna individuare singoli inadempimenti singoli inadempimenti che siano fatti che poi abbiano siano la fonte logica e poi vedremo come della causazione del danno un'altra cosa che non sono riuscito a mettere a fuoco io è perché quando si parla sicuramente la responsabilità del medico a parto anche questo diamo per presupposto che la responsabilità del medico sia una responsabilità di natura contrattuale perché anche su questo potremmo metterci a discutere ma non discutiamo né su questo né sulla natura contrattuale della responsabilità dei creditori sociali nei confronti della società la prima cosa che ho osservato è che la giurisprudenza in materia societaria sulla responsabilità degli amministratori non fa uso mi sembra che non faccia uso della Cassazione Sezione Unite del 2008 che ha provato a spiegarci la differenza che c'è tra provare l'inadempimento e allegare l'inadempimento e invece sotto questo profilo a me sembra che quel ragionamento delle sezioni unite potrebbe essere utilizzato anche in materia societaria invece le massime societarie continuano a dire che chi agisce nei confronti degli amministratori deve provare le singole condotte che violano i doveri inerenti alle funzioni gestorie legge e atto costitutivo per intenderci deve provare il danno e deve provare il nesso di causalità materiale tra il danno e le singole condotte che violano i doveri delle funzioni gestorie e qui quando si dà per presupposto che chi agisce debba provare anche il nesso di causalità io pongo questo quesito siamo sempre in tema di responsabilità di natura contrattuale e su questo punto le sezioni unite 577 del 2008 ci hanno detto che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità qua siamo in ambito medico ma sto cominciando a navigare a vista e sto cominciando a avere un po' di mal di mare l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno e delle obbligazioni cosiddette di comportamento e sicuramente anche quella degli amministratori è qua non è qualunque inadempimento ma solo quello che costituisce causa o con causa efficiente del danno ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento qualunque esso sia ma ad un inadempimento per così dire qualificato e cioè astrettamente efficiente alla produzione del danno comporterà il debitore dimostrare che tal inadempimento non vi è proprio stato ovvero che pur esistendo non è stato nella fattispecie causa del danno nella fattispecie e poi smetto di vi leggo solo quest'ultimo passaggio perché è centrale delle sezioni unite quando in tema di responsabilità contrattuale ci spiegano che differenza c'è tra prova dell'inadempimento e allegazione cioè ci dicono le sezioni unite del 2008 tu devi solo allegare qualcuno lo chiama allegazione vestita cioè dimostrare che quell'inadempimento è stato devi solo dire che è stato quell'inadempimento la causa del danno ma non hai necessità di provarlo tecnicamente l'inadempimento le sezioni unite proseguono e leggo l'ultimo passaggio perché io dopo un po' ho qualche difficoltà proseguono a questo punto dicendo che avendo l'attore provato il contratto relativo alla manifestazione sanitaria e il punto non è in contestazione il danno assunto nella fattispecie patite allegando che i convenuti erano inadempienti cioè dichiarando che i convenuti erano inadempienti avendolo sottoposto ad un'emotrasfusione con sangue effetto sarebbe competeva ai convenuti fornire la prova che tale inadempimento non vi era stato poiché non era stata effettuata una trasfusione con sangue effetto oppure che esistendo l'inadempimento esso non era ziologicamente rilevante nell'azione risarcitoria proposta per una qualche ragione tra cui quella adotta l'affezione patologica già in atto al momento del ricovero allora io faccio due osservazioni intanto questa sentenza di cassazione è un'inutile pur essendo fondamentale uno snodo fondamentale in tema di responsabilità medica tutti l'abbiamo letta abbiamo provato a capirla intanto viene spessissimo massimata male cioè viene massimata nel senso che in realtà la differenza tra allegazione e prova è una differenza che le massime riferiscono al nesso di causalità e non all'inadempimento in realtà l'allegazione è dell'inadempimento non del nesso di causalità io a un certo punto navigando a vista mi sono anche chiesto ma perché mai queste massime fossero state scritte così ma in realtà al nesso di causalità questa sentenza sembra dare per presupposto che sembra dare per presupposto che debba mi sembra che sembra dare per presupposto che debba essere che l'interruzione per meglio dire che la prova del nesso di causalità non sia necessaria che l'interruzione invece deve essere dimostrata dal medico e poi l'altra cosa che questa Cassazione Senzioni Unite vende come come qualcosa di nuovo è invece una cosa che a me sembra che sia nella lettera del codice cioè quello è il fatto che non qualsiasi inadempimento è idoneo a cagionare o non qualsiasi inadempimento sia fonte di responsabilità e questo tra l'altro ci serve per la differenza tra l'attivo e passivo nel fallimento perché se è vero quello che sto dicendo io l'inadempimento della tenuta delle scritture contabili il mancato adempimento dell'obbligo di legge della tenuta delle scritture contabili dico ancora in maniera semplicistica non c'entra assolutamente niente con l'inadempimento dell'amministratore che si è fatto un bonifico alle Caiman sotto profilo logico perché il danno è l'ammontare del bonifico alle Caiman non la differenza trattiva e passivo completo della società che nel frattempo è fallita tra inadempimento e danno deve sostistere uno specifico rapporto di causalità non è risarcibile qualsiasi danno che in qualche modo si ricolleghi all'inadempimento in un generico rapporto di causa-effetto ma solo il danno che ne sia conseguenza diretta ed immediata lo dice l'articolo 1223 del codice civile che il quale poi nel 1225 dice che sia un danno prevedibile dal debitore come conseguenza del proprio inadempimento sono norme sulle obbligazioni che la Cassazione a sezioni unite mi sembra venda come verità rilevate ma stanno nel codice se poi guardate se voi spostate l'attenzione sull'onere della prova con riferimento al nesso di causalità cioè ipotizziamo per un momento che in realtà anche il nesso di causalità debba essere debba essere oggetto di prova dell'uno o dell'altra parte e io ho dei serissimi dubbi che sotto il profilo tecnico il nesso di causalità possa essere oggetto di prova però se guardate le massime così talvolta sembra trovate tutto il contrario di tutto cioè la Cassazione 30 settembre 2014 25 6-7 per esempio in tema di responsabilità medica dà per pacifico che il nesso di la mancante esistenza nel nesso di causalità l'onere della prova della mancante esistenza del nesso di causalità sia a carico del medico una sentenza di qualche mese prima bisognerebbe dà per pacifico che invece questo deve essere a carico del paziente che la prova l'onere della prova del nesso di causalità deve essere a carico del paziente e qui in realtà poi la situazione si complica ulteriormente se è possibile e provo a introdurre quello che dirà Elisabetta Pedersini si complica ulteriormente perché poi in tema di quando si ragiona di nesso di causalità bisogna anche tenere presente che la giurisprudenza introduce dei correttivi per esempio l'onere della prova gravante su cui agisce o resiste in giudizio è vero che non subisce d'eroga nemmeno quando abbia ad oggetto fatti negativi tuttavia non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di un fatto specifico positivo contrario o anche mediante presunzioni le quali possa aggiungersi il fatto negativo e poi c'è un altro grimaldello che la giurisprudenza utilizza spessissimo forse talvolta anche a sproposito e cioè il cosiddetto principio di riferibilità o vicinanza della prova secondo questo principio il creditore se il creditore incontrerebbe difficoltà spesso insuderabili se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione allora l'onere della prova deve essere partito tenuto conto in concreto della possibilità per l'uno o per l'altro dei soggetti di provare fatti e circostanze che ricadano nelle rispettive sfere di azione così facendo la giurisprudenza mi sembra che voglia dire se solo uno dei due delle pari del giudizio è in grado di dare quella prova le regole sull'onere della prova saltano e solo a lui solo su di lui incombe questa incombe l'onere della prova di quei fatti questo ovviamente interferisce moltissimo sia con la responsabilità del medico come conseguenza lo dico ancora in maniera politica della mancata tenuta della cartella clinica sia sotto il profilo della responsabilità dell'amministratore sotto il profilo della mancata tenuta della contabilità perché si deduce che la mancata tenuta della contabilità giustifichi l'inversione dell'onere della prova del nesso e quindi l'attribuzione al carico dell'amministratore dell'onere di provare la non ricognigibilità alla sua condotta del dissesto io ho continuo ad avere la sensazione che ci sia un salto logico enorme sia nel momento in cui si pretende di paragonare la responsabilità degli amministratori di SPA alla responsabilità del medico ma un altrettanto salto logico enorme nel momento in cui si tende a quantificare il danno dell'amministratore nella differenza trattiva e passiva passando attraverso il criterio della vicinanza della prova attraversando e utilizzando il criterio della vicinanza della prova con riferimento alla mancata tenuta delle tue contabili perché stiamo parlando di fatti completamente diversi e tra inadempimento e danno a mio sommesso parere deve sussistere un specifico rapporto di causalità non è risarcibile qualsiasi danno che in qualsiasi modo si possa ricollegare all'inadempimento scritture contabili in un generico rapporto di causa-effetto ma solo il danno che ne sia conseguenza immediata e diretta questo lo dice banalmente il 1223 del codice civile grazie allora adesso parla professoressa pedersini che dettaglierà su la quantificazione del danno nello stesso ambito grazie grazie presidente allora mi hai alzato parecchie palle e io devo dire la verità pallavolo ho sempre giocato con una qualche cautele con scarso successo proviamo però mettere a fuoco il tema della quantificazione del danno nell'ambito delle azioni di responsabilità contro gli amministratori con particolare se possibile attenzione alla sede concorsuale come dire è assolutamente superfluo sottolineare la centralità la crucialità del tema della quantificazione del danno nell'ambito delle azioni di responsabilità per una serie di ragioni prima di tutto da un punto di vista pratico cioè dal punto di vista della costruzione della creazione dell'attivo patrimoniale dell'attivo concorsuale soprattutto in una situazione post-riforma di declino se non tramonto delle azioni revocatorie e eventualmente come dire le azioni di responsabilità le azioni risarcitorie nei confronti degli organi sociali degli organi di controllo fanno la pariglia eventualmente con azioni nei confronti delle banche che abbiano abusivamente concesso credito e quindi tenuto artificialmente e artificiosamente in vita l'impresa quindi dal punto di vista pratico non c'è dubbio che la loro centralità sia sempre più rilevante da un punto di vista dell'equità sostanziale perché bisogna evitare e ci torneremo sia in debite sottovalutazioni delle somme da risarcire ma anche in debite ingiustificate sopravalutazioni delle somme da risarcire perché da un canto evidentemente si cagiona un danno alla massa concorsuale ai creditori sociali in generale dall'altro c'è un danno agli amministratori che ridonda proprio nel senso di quella responsabilità che rischia di sfociare in una responsabilità oggettiva che la riforma ha voluto espungere sicuramente da un punto di vista teorico sistematico i moltissimi profili problematici messi in luce dal professor Guidotti chiariscono come questo sia un punto di interferenza delicatissimo fra diritto civile e diritto commerciale sia una sorta di banco di prova diciamo di prova dell'attenuta dei principi e delle regole generali dettate in materia di diritto civile se riferiti alla materia societaria dato atto che anche nel regime novellato la responsabilità degli amministratori appartiene all'area della responsabilità contrattuale che è responsabilità da inadempimento per colpa per fatto proprio non c'è dubbio che ad essa vadano applicati i principi generali in materia di conseguenzialità giuridica in materia di onere della prova in materia di quantificazione del danno risarcibile soltanto che qua ci si trova di fronte a uno dei problemi cruciali quando debbono interferire il diritto civile e il diritto commerciale che è il passaggio dalla prospettiva dell'atto alla prospettiva dell'attività che è il passaggio dalla prospettiva statica tipica del diritto civile alla prospettiva dell'attività quindi della sequenza coordinata di atti in cui ciascun atto perde la propria individualità che è tipica invece del diritto dell'impresa del diritto commerciale del diritto societario in una situazione in cui in una situazione normativa ordinamentale in cui il legislatore sembra avere preso maggiore contezza della situazione e questo in almeno due norme o almeno così mi pare la prima o meglio le prime due sono gli articoli 2485 2486 cioè le norme che hanno sostituito l'articolo 2449 verificata sia una causa di scioglimento entrata la società in fase di liquidazione il divieto che incombe sugli amministratori non è più quello di compiere nuove operazioni quindi non c'è più una visione atomistica rispetto a singoli atti dove poi anche una possibile responsabilità legata al risultato delle singole nuove operazioni sommate l'una all'altra ma il divieto o meglio il divieto diventa un obbligo cioè un obbligo di continuare a gestire l'impresa in funzione conservativa quindi con lo scopo di mantenere l'integrità del valore della redditività della integrità del patrimonio sociale a favore dei creditori quindi è una prospettiva che cambia radicalmente a cui peraltro va associata anche un diverso tipo di responsabilità che non è più responsabilità per debiti ma diventa responsabilità per danni non a caso l'altra norma dalla quale mi pare emerga chiaramente la prospettiva legislativa di non considerare gli atti nella loro singolarità come atomi ma come parti di un tutto è la norma sui vantaggi compensativi cioè laddove si debba giudicare del perseguimento o meno dell'interesse sociale della violazione dell'interesse sociale della controllata chiamiamola così in maniera descrittiva e non si può considerare la somma algebrica cioè il mero risultato aritmetico della singola operazione ma ogni singola operazione va inquadrata all'interno dell'intero sistema dell'intera rete di rapporti quindi dell'attività che in questo caso addirittura non è più l'attività della singola società ma è l'attività della singola società all'interno del gruppo e nei rapporti del gruppo allora anche questi mi paiono due indici legislativi di una presa d'atto chiarissima del fatto che al centro del diritto dell'impresa sta l'attività dinamica l'attività come sequenza di atti coordinati fra di loro o ad un fine dinamica irta fatta di scelte che non possono di per sé essere sottoposte ad un vaglio di legittimità da parte del giudice e allora sicuramente sarebbe scorretto ma lo dico perché leggendo le massime ma leggendo anche molte motivazioni di sentenze anche citatissime in realtà sembra di cogliere questa necessità di tornare sic et simpliciter alle regole del diritto privato comune nelle regole del diritto civile cioè annesso di causalità nella sua purezza mentre in realtà sarebbe impossibile ma anche scorretto individuare singoli illeciti singole conseguenze illecite e poi fare la sommatoria dei danni cioè considerare le singole operazioni illecite prendere il risultato aritmetico di ciascuna fare la somma e imputare quel danno agli amministratori perché non terrebbe conto della diversa prospettiva dell'attività rispetto all'atto e ripeto non soltanto da un punto di vista teorico aziendalistico dottrinario ma da un punto di vista oramai credo normativo legislativo in altre parole è in debita la parcellizzazione se volete è un ragionamento analogo a quello che si può fare oggi per la revocatoria delle rimesse cioè non è più possibile sommare i singoli danni ma tutto deve essere visto in una prospettiva fluida dinamica di continuità se vogliamo riferirlo al tema del nesso di causalità e quindi alle catene causali di cui parlano i civilisti che hanno dalla loro questo tesoro semantico molto affascinante non si tratta di provare i singoli anelli che nella catena causale hanno portato al dissesto perché ripeto sarebbe impossibile e sarebbe sbagliato ci ho detto non c'è dubbio che occorra distinguere quando si affronta il tema della quantificazione del danno rispetto alla responsabilità amministrativa sia necessario distinguere una fase fisiologica e una fase patologica cioè sia necessario distinguere l'esercizio dell'azione da parte della società in bonus e l'esercizio dell'azione in sede concorsuale in questo caso prescindendo dalle giustissime osservazioni che faceva il professor Guidotti rispetto poi al problema della sommatoria delle due azioni allora in fase fisiologica l'esercizio dell'azione da parte della società contro gli amministratori in un orizzonte di continuità è chiaro che è possibile individuare singoli atti illeciti singole operazioni in violazione di legge a cui consegue chiaramente un danno facilmente agevolmente quantificabile cioè in cui non si pone il problema né della conseguenzialità giuridica né tantomeno della quantificazione del danno le operazioni distrattive il danno è l'importo distratto gli atti estranei all'oggetto sociale il danno è l'insieme delle risorse usate per compiere l'atto gli atti in conflitto di interessi l'insieme delle risorse usate utilizzate o bruciate per compiere l'operazione in conflitto di interessi la tipica la violazione di norme tributarie o previdenziali il danno sarà quantificabile nell'insieme delle sanzioni irrogate degli interessi forse un poco diversa è la questione e qua però già ci spostiamo in una fase che da fisiologica trascorre in patologica cioè il tema dei pagamenti preferenziali non più revocabili perché in questo caso probabilmente il danno essendo legato alla violazione della par condicio creditorum sta nella differenza cioè nella differenza fra quanto il creditore preferito ha conseguito in ipotesi l'intero e quanto avrebbe ottenuto in moneta fallimentare quindi ma anche in questo caso il danno è facilmente identificabile ora non c'è dubbio che se queste stesse operazioni se questi stessi atti il curatore ha la fortuna di trovare di rinvenire all'interno di una procedura concorsuale nulla a questi o si applicano esattamente gli stessi schemi gli stessi criteri ma il problema si pone laddove si passi alla fase patologica o comunque ad ogni situazione nella quale si tratta di individuare di computare un danno che è la conseguenza di una gestione complessivamente condotta in violazione di legge di una gestione complessivamente condotta in spregio alle regole della legge dell'atto costitutivo quindi di una violazione che è stata colpevole non diligente una mala gestio in particolare laddove il dissesto e l'insolvenza siano l'esito finale di un'attività gestoria così condotta allora è chiaro che qua si pone la necessità di semplificazioni rispetto all'accertamento di criteri che sono inevitabilmente semplificatori presuntivi e sintetici che non possono e non debbono essere analitici perché lo ripeto sarebbero sbagliati e condurrebbero a risultati iniqui e allora nel tentativo di rinvenire criteri semplificatori criteri presuntivi criteri sintetici sostanzialmente la dottrina della giurisprudenza hanno individuato due modalità di compito la modalità più risalente ma anche più ricorrente che è quella del deficit fallimentario dello sbilancio patrimoniale e l'altra metodica che da qualcuno è accusata di essere semplicemente una revisione un ammodernamento un restyling del deficit e che invece probabilmente ha un significato diverso il cui paradigma deve essere mantenuto che è il metodo la modalità di calcolo legato ai cosiddetti netti patrimoniali di periodo sempre criteri differenziali sempre criteri sintetici e presuntivi ma con significative differenze torno rapidamente sul criterio del deficit fallimentare ma lo faccio perché ripeto è ricorrente come un fiume carsico e ritorna tra l'altro proprio nella ordinanza di rimessione e quindi ci pone l'obbligo di occuparci allora differenza fra passivo definitivo tutte le insinuazioni anche le tardive attivo se ve ne sia realizzato o realizzabile le critiche sono note le ripercorriamo rapidamente quello sbilancio patrimoniale quel deficit può avere molteplici cause assolutamente eterogenee che non tutte necessariamente risalgono né a singoli atti né ad una gestione complessivamente non diligente ad una gestione complessivamente condotta in spregio alle regole di legge e il criterio così fatto non consente di distinguere quindi obliterà completamente il nesso di causalità non si dà carico neppure di adoprarlo per una presunzione la misura del deficit dello sbilancio patrimoniale dipende da una serie di scelte la maggior parte delle quali deve rimanere discrezionale ed è sottratta per principio a un vaglio di legittimità rimesso al giudice è un criterio assolutamente approssimativo che potrebbe essere approssimato per eccesso per le ragioni che dicevamo per eccesso proprio perché le cause che hanno condotto al dissesto e all'insolvenza non tutte discendono linearmente geometricamente dalla condotta degli amministratori o da quelle condotte che siano considerate reprensibili ma potrebbe per assurdo anche essere approssimato per difetto tant'è che nelle pronunce più risalenti si diceva no non basta non basta accertare la differenza passivo-attivo bisogna andare a verificare di nuovo ciascuna singola operazione illecita fare il calcolo dell'esito e poi sommarli tutti perché ci potrebbero essere creditori che non si sono insinuati creditori che hanno rinunciato il passivo in definitiva potrebbe non esprimere il complessivo indebitamento della società e quindi il danno complessivamente recato al patrimonio sociale da un punto di vista teorico non va dimenticato che un criterio si fatto rischia di imputare agli amministratori sostanzialmente il rischio d'impresa e quindi è almeno da un punto di vista diciamo del diritto commerciale sostanziale il diritto societario sostanziale assolutamente inaccettabile dopo il 2005 quindi dopo le due sentenze del 2005 25 38 30 32 si addiviene a quel correttivo che anche la ordinanza di rimessione di Scaldiferri richiama cioè nessun automatismo bando agli automatismi possibilità di recuperare ma allora in guisa di criterio equitativo il deficit la modalità del deficit solo e qua non si è formata una formula tralatizia perché si legge mancata tenuta delle scritture contabili tenuta irregolare inesatta imprecisa tenuta che non consente all'intellezione la ricostruzione delle movimentazioni economico contabili gestorie della società in buona sostanza una tenuta della contabilità che non renda possibile alla curatela fornire la prova delle singole operazioni compiute seconda seconda situazione in cui dopo le sentenze del 2005 sentenze che peraltro recuperano due sentenze una del 97 e una del 98 che dicevano una cosa e l'altra l'una l'una cosa e l'altra dicevo l'altra situazione in cui secondo la Cassazione sarebbe possibile richiamare dovrebbe da dire dalla tomba il criterio del deficit è quella in cui gli amministratori non abbiano semplicemente aggravato il dissesto ma abbiano causato il dissesto cioè l'insolvenza sia causalmente riferibile e imputabile alla attività degli amministratori ripeto criterio da recuperare in guisa di modalità di calcolo equitativa 1226 con obbligo di motivazione a carico del giudice caso per caso al criterio del deficit si affianca l'altro criterio differenziale molto più accettato largamente accettato soprattutto da un punto di vista dottrinale soprattutto in letteratura usato a volte consapevolmente a volte meno da molta giurisprudenza di merito e da una parte della giurisprudenza di legittimità il criterio dei netti patrimoniali di periodo o saldi di periodo l'elaborazione di questo criterio risale anzitutto proprio alle norme alle quali facevo riferimento poc'anzi cioè alla situazione in cui normalmente per effetto della perdita del capitale sociale della totale dell'azzeramento del capitale sociale si sia verificata una causa di scioglimento e gli amministratori nonostante ciò abbiano proseguito la gestione caratteristica quindi non abbiano prima del 2003 interrotto la gestione caratteristica e non abbiano compiuto alcuna nuova operazione dopo il 2003 gli amministratori abbiano continuato la gestione d'impresa abbiano continuato la gestione caratteristica come se nulla fosse contravvenendo quindi al divieto di adottare una gestione conservativa diretta cioè a conservare l'integrità e il valore del patrimonio sociale ai fini del soddisfacimento dei creditori il criterio funziona in questi termini si considera il momento in cui la causa di scioglimento si è verificata e si considera un altro momento sulla linea temporale che è il momento o di cessazione dell'amministratore dalla carica o il momento in cui è stata dichiarata è stato dichiarato il fallimento della società si considera quindi il patrimonio netto rispetto al primo momento cioè il momento in cui la causa di scioglimento si è verificata quindi il momento in cui gli amministratori si sono resi conto o avrebbero dovuto rendersi conto con la diligenza richiesta del verificarsi della causa di scioglimento tipicamente perché il capitale sociale è andato a zero e il patrimonio netto accertato nel fallimento si fa la differenza se c'è un delta negativo se c'è una differenza nel senso che il patrimonio in sede concorsuale è inferiore rispetto al patrimonio precedente ebbene questa sarebbe la dimostrazione da un canto della conseguenzialità giuridica cioè del fatto che la prosecuzione dell'attività ha generato un danno alla società sarebbe d'altro canto anche lo strumento per quantificare quindi per determinare e quindi liquidare il danno da imputare agli amministratori che tra T1 e T2 abbiano continuato a gestire l'impresa vi dicevo criterio largamente accreditato rispetto al quale però in ragione ancora una volta della sua approssimazione della sua sinteticità sono stati proposti una serie di correttivi e questi soprattutto in sede dottrinale e recepiti dalla giurisprudenza di merito molto meno per quanto mi consta dalla giurisprudenza di legittimità allora prima di tutto diciamo che il criterio dei netti patrimoniali deve andare soggetto a una serie di correttivi di affinamenti per così dire prima di tutto sono necessarie evidentemente rettifiche riclassificazioni per rendere le due situazioni patrimoniali omogenee e comparabili potrebbe non esserci un bilancio riferito al momento in cui la causa di scioglimento si è verificata e soprattutto se gli amministratori hanno obliterato e hanno come dire mascherato celato hanno messo la polvere sotto il tappeto bisogna individuare che il momento e redigere una situazione patrimoniale ad hoc c'è niente da fare e sono due bilanci quello diciamo del momento in cui il capitale è andato perduto e quello invece del fallimento che hanno due finalità diverse l'uno in prospettiva di continuità e l'altro in prospettiva liquidatoria quindi è necessario renderli in qualche modo comparabili e omogenei e allora le proposte più condivisibili attengono da un canto eliminare dalle poste dell'attivo del primo patrimonio netto quei valori che hanno un senso e un significato solo in prospettiva di continuità aziendale tipicamente le immobilizzazioni in materiali marchi brevetti avviamento nel contempo la necessità di apportare tanto al patrimonio netto riferito al primo momento quanto al patrimonio netto concorsuale la stessa rettifica laddove ad esempio sia necessario operare svalutazioni delle voci attive che gli amministratori non hanno fatto per non far emergere la perdita quindi se si svaluta una voce attiva nel patrimonio netto nel momento in cui come dire il capitale è andato perduto gli amministratori non hanno non hanno svalutato un credito inesigibile perché in questo modo hanno coperto la perdita e la situazione allora se lo si svaluta diciamo nel patrimonio nel primo patrimonio si deve svalutare anche nel secondo se il credito era inesigibile rimane inesigibile quindi la necessità che la rettifica si adoppia proprio per rendere omogenee e comparabili le due situazioni ma c'è chiaramente anche un problema di sottrazione di determinate poste dal passivo perché la giurisprudenza di merito Milano in particolare chiarisce che vi sono dei costi di liquidazione e vi sono delle poste passive che sono sostanzialmente ineliminabili inevitabili vale a dire un aggravamento di perdite un aggravamento del passivo che si sarebbe verificato anche se la liquidazione fosse stata tempestivamente avviata nel momento in cui il capitale è andato perduto allora è chiaro che questi valori non possono essere imputati agli amministratori che hanno proseguito la gestione caratteristica quindi tra le poste ineliminabili vanno considerate la prosecuzione delle operazioni in corso al momento del verificarsi della causa di scioglimento la maturazione di oneri finanziari ed interessi sugli affidamenti in essere una serie di costi fissi ineliminabili se l'attività comunque prosegue ma che l'attività possa proseguire lo dice la legge gli articoli 2485 2486 soprattutto consentono verrebbe da dire impongono la prosecuzione della gestione a fini di conservazione del valore del patrimonio quindi costi fissi per il personale oneri retributivi oneri previdenziali rapporti di durata canoni di locazione canoni di leasing mantenimento delle utenze insomma una serie di costi una serie di elementi del passivo che si sarebbero aggravati indipendentemente dalla tenuta da parte degli amministratori della condotta lecita cioè della immediata pubblicazione nel registro delle imprese della causa di scioglimento e della messa in liquidazione della società è chiaro che noi ci potremmo domandare se sorga in realtà un dovere degli amministratori di attuare immediatamente il maggior contenimento possibile della spesa avviando se possibile procedure di mobilità di cassa integrazione interruzione di contratti di durata che non impongono evidentemente delle penali che creino maggior danno rispetto alla continuazione questo come dire se volete è un filone collaterale del problema in dottrina poi ci sono proposti anche altri correttivi in particolare il collega Galletti propone di sottrarre dal patrimonio netto accertato in sede concorsuale l'eventuali plusvalenze d'accessione di asset strategici sostenendo che siccome l'accessione di un bene strategico un bene rilevante ha prodotto un flusso di cassa che ha consentito di estinguere debiti in essere ma che non è stato reinvestito in una prospettiva di continuità non è stato reinvestito quindi non ha prodotto ulteriori utili non è stato investito in realtà è una maniera con la quale gli amministratori bruciano cassa e continuano bruciano valore meglio scusate bruciano valore e continuano a tenere artificiosamente in piedi la società così come non avrebbero valore le immissioni di mezzi propri aumenti di capitale versamenti a fondo perduto qualunque altra dazione a favore della società rispetto alla quale la società non assuma obblighi di restituzione perché comunque anche in questo caso si tratterebbe di iniezioni che vanno semplicemente a ripianare i debiti mano a mano che vengono a scadenza senza entrare in un flusso senza generare un flusso positivo di investimenti esatto di gestione corrente di flussi positivi ai fini del mantenimento della gestione caratteristica cioè la gestione caratteristica non c'è più viene tenuta in piedi come un fantoccio come una specie di teatro faccio notare che sempre in sede dottrinale si è rilevato che laddove a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento non rilevata colpevolmente o dolosamente non rilevata quindi in una situazione di continuazione della gestione della attività caratteristica poi si sia divenuti al fallimento della società e quindi qualora dalla violazione dei doveri in ordine alla gestione conservativa poi si sia addivenuti ad un dissesto che è arrivato ad essere insolvenza e quindi al fallimento della società nessuna di queste rettifiche di queste sottrazioni sarebbe dovuta perché a quel punto agli amministratori sarebbe imputabile non solo e non tanto il mancato rispetto della gestione a fini conservativi ma sarebbe invece imputabile di avere mancato di stare direttamente per il proprio fallimento cioè gli amministratori avrebbero dovuto e questo si fa ancora una volta con un ragionamento però che è ex post cioè avrebbero dovuto depositare istanza di fallimento o quantomeno tentare di valersi di uno degli strumenti che la legge fallimentare mette a disposizione per la regolazione negoziata della crisi e quindi ricorso per concordato preventivo domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione evidentemente se un accordo sia stato raggiunto o anche semplicemente oggi possiamo dire in fase di trattativa con i propri creditori perché in questo caso secondo questa dottrina il danno andrebbe a coincidere con tutte le maggiori perdite successive alla causa di scioglimento senza distinzione fra le passività imputabili alla gestione speculativa perciò stesso in debita e quelle erosioni patrimoniali che si sarebbero verificate anche nel corso della liquidazione ora qualche riflessione su questi criteri dicevo qual è o meglio qual è l'obiettivo della esatta quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori evitare dicevamo ingiustificate sottovalutazioni in danno dei creditori concorsuali evitare ma anche ingiustificate sopravvalutazioni a danno degli amministratori e qua mi sembra necessario richiamare quel passo della relazione che anche il professor Guidotti richiamava e cioè l'espunzione dal nostro sistema per chiara volontà legislativa di una forma di responsabilità degli amministratori che tenda sostanzialmente a coincidere con una responsabilità oggettiva e a questo si può pervenire anche attraverso una serie di inversioni dell'onere della prova che attengono non soltanto al discarico di responsabilità ma anche alla quantificazione del danno che viene imputato in sede di azioni di responsabilità le modifiche apportate alle norme in tema di amministrazione di società per azioni tendono a fare coincidere i poteri di cui l'amministratore compete che l'amministratore poteva esercitare la responsabilità a cui deve andare soggetto e quindi inevitabilmente il danno del quale deve essere tenuto responsabile anche sul piano della liquidazione a suo carico in questo senso se si vuole dare un senso alla riforma e dare un senso vero di discontinuità rispetto al sistema pregresso bisogna verosimilmente da un lato superare la regola della solidarietà rispetto al contributo causale di ciascuno di ciascun amministratore in relazione alle proprie specifiche competenze mantenendo naturalmente la regola della solidarietà come regola residuale e non potrebbe non essere così ma superandola laddove l'amministratore sia in grado di fornire la prova che le sue specifiche competenze che non dimentichiamolo sono quelle che hanno indotto i soci a nominarlo come amministratore a farlo sedere in quel consiglio di amministrazione non gli hanno consentito di comprendere appieno il valore il tenore della proposta e quindi le conseguenze della delibera così adottata allo stesso modo rispetto a quel dovere che ha sostituito il dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione cioè il dovere di agire informati probabilmente anche in questo caso è necessario pensare ad una ripartizione dell'onere della prova per cui incombe su chi agisca in responsabilità dimostrare che l'amministratore non esecutivo evidentemente l'amministratore il consigliere non delegato avrebbe dovuto chiedere un supplemento di indagine di informazione e non tanto fare gravare sul consigliere l'onere di provare che non sussistevano indizi indici di allerta tali per cui avrebbe dovuto attivarsi perché altrimenti il sistema avrebbe subito semplicemente un restyling un macchiage ma sarebbe esattamente quello di prima quindi ogni metodica ogni soluzione che vada verso la responsabilità oggettiva tra virgolette evidentemente degli amministratori è sbagliato è sbagliato in questo senso il criterio del deficit fallimentare non può che avere un ruolo estremamente marginale estremamente marginale perché i due casi di cui parla la Cassazione 97 98 poi 2005 poi non proprio tralatiziamente riprodotte ma insomma sostanzialmente in realtà le due fattispecie sono una perché o si riesce a provare che la condotta degli amministratori è stata causa dell'insolvenza e quindi è possibile presumere che lo sbilancio patrimoniale che il deficit fallimentare sia il danno che deve essere loro imputato perché solo in quel punto ci sarebbe l'inversione dell'onere della prova oppure se manca la contabilità e allora il passaggio presuntivo è duplice c'è una presunzione al quadrato perché si presume dalla mancanza della contabilità che la condotta non ricostruibile non individuabile sia stata causativa del dissesto e dell'insolvenza e quindi secondo passaggio presuntivo sembra il vecchio 147 e quindi che il danno da imputare agli amministratori che quella condotta hanno che quella condotta quale condotta non si sa perché nessuno dice quale che ripeto il danno da imputare agli amministratori che quella condotta abbiano tenuto sia da computare sia da correlare all'intero all'intera differenza fra passaggio e attivo fallimentare a parte il problema evidentemente di capire come dicevo prima qual è il grado di scorretta inesatta tenuta delle scritture contabili che poi giustifichi questa e allora quando in che modo si può pensare di mantenere in piedi secondo me il criterio del deficit fallimentare che rimane rozzo approssimativo presuntivo parzialmente punitivo tutto quello che volete quando il tribunale fornisca quale prova o meglio chiedo scusa quando il tribunale motivi in che modo sulla scorta delle prove offerte dalla curatela che c'è stata una serie di condotte illecite una serie di operazioni non rispettose del dettato di legge e di statuto il tribunale poi deve motivare perché dal mancato rinvenimento delle scritture contabili sia impossibile individuare e provare gli effetti negativi di quelle operazioni illecite sul patrimonio cioè deve dire questa è la mala gestio le scritture contabili non ci sono quindi io ti dico perché dal momento che le scritture contabili non ci sono è impossibile individuare e provare l'effetto negativo lesivo di quelle operazioni sul patrimonio sociale infine in ragione della natura e delle caratteristiche di quelle operazioni della natura e delle caratteristiche della società di cui si tratta motivare la plausibilità dell'assunto secondo cui il pregiudizio da imputare è il differenziale fra passivo e attivo fallimentare senza alcun automatismo in questo senso l'automatismo che giustamente rileva la ordinanza di rimessione salvo poi andare un poco troppo distante e che rileva secondo me giustamente una Cassazione del 2012 quale prova contraria sono ammessi a fornire gli amministratori che il pregiudizio concreto che il danno effettivo è inferiore al danno presunto che anche un contenio lecito quindi anche come dire il rispetto della legge non avrebbe provocato un danno inferiore oppure eccepire l'inadeguatezza dei criteri e fornire un diverso criterio di valutazione del danno questo secondo me deve sempre essere possibile quanto ai netti patrimoniali come accennavo prima il paradigma verosimilmente va mantenuto cioè il raffronto il raffronto che evidentemente sconta una inevitabile parte di finzione perché bisogna mettere una bandierina su una linea del tempo in un momento e l'altra si è certa o la sentenza dichiarativa di fallimento o la cessazione dalla carica ma la prima bandierina viene messa in maniera abbastanza discrezionale riclassificando i bilanci rettificandoli facendo emergere una perdita che è stata omessa che è stata nascosta quindi pur scontando questa finzione però mi sembra che da un punto di vista teorico tenga soltanto che qual è il problema che da un punto di vista aziendalistico si tratta comunque di un differenziale contabile per quanto rettificati per quanto riclassificati questi bilanci queste situazioni patrimoniali fanno emergere un differenziale che è un differenziale contabile e che quindi non riesce mai a cogliere il reale valore che gli amministratori hanno bruciato non riesce mai a cogliere la reale perdita di valore quanto l'azienda quanto l'impresa e l'azienda valevano in quel momento iniziale in quel momento T1 quando abbiamo messo la bandierina e quindi qual è il decremento di valore fino al momento in cui viene dichiarato il fallimento e quindi bisognerebbe essere in grado e qua bisognerebbe però fare ricorso a strumenti a criteri e a nozioni a studi di economia aziendale fare riferimento in quel momento T1 cioè il momento in cui si assume dobbiamo dire che il capitale è andato perduto che la società era in un disequilibrio in una causa era in corso in una causa di liquidazione in una causa di scioglimento scusate confrontare il valore di liquidazione e il valore economico vale a dire in quel momento quanto vale l'azienda può avere un valore di liquidazione cioè quanto vale se noi vendiamo tutto e ripianiamo i debiti quanto vale qual è il netto di questa operazione e qual è il suo valore economico cioè quanto potrebbe valere ancora se rilanciata sul mercato il più alto di questi valori è il valore reale dell'azienda in quel momento la stessa operazione farla sul secondo momento e benché possa apparire contraddittorio farlo nel momento del fallimento beh con la riforma non c'è dubbio che istituti come l'esercizio provvisorio la vendita in blocco del complesso aziendale chiariscano che ci può essere un valore economico cioè un valore legato al mantenimento della capacità organizzativa produttiva economico dell'azienda ancora integro nonostante la dichiarazione di fallimento quindi anche in quel momento ci può essere un differenziale fra un valore di liquidazione smembrare parcellizzare vendere oppure mantenere in vita e vendere come complesso il maggiore di questi due valori è chiaramente il valore reale dell'azienda nel momento terminale la differenza probabilmente sarebbe in grado di cogliere meglio il valore reale o meglio la perdita di valore reale e quindi commisurare il danno alla reale perdita di valore verificatasi qua è chiaro che si chiama in causa tutto un problema di consulenze un problema di serietà adeguatezza delle consulenze e ancora una volta permettetemi di abdicazione del giurista al suo ruolo perché il giurista finisce con l'affidare sostanzialmente al consulente al tecnico di parte la valutazione di questi elementi che peraltro che peraltro sì che è peccato mortale ma dal quale si fatica l'ultima cosa c'è chiaramente anche un problema che correla quantificazione e ripartizione perché evidentemente non necessariamente c'è stato un solo amministratore un solo consiglio tra il momento T1 e il momento T2 cioè tra il momento in cui la perdita doveva essere rilevata la liquidazione doveva essere avviata e il momento della dichiarazione di fallimento ora nella prospettiva del regresso quindi nella prospettiva tradizionale del mantenimento della solidarietà e del regresso interno direi che tranne pochissimi casi la giurisprudenza ha sempre ragionato nel senso di quote identiche dell'applicazione di quote identiche quindi pur potendo superare la presunzione di cui all'articolo 1292 98 quella della presunzione delle quote identiche in realtà di solito non si fa nella prospettiva del superamento della solidarietà e quindi come dicevo dell'onere della prova a carico del singolo consigliere di non avere avuto contezza in ragione delle proprie specifiche competenze delle conseguenze dell'operazione in questo caso evidentemente il consigliere chiederà di andare esente da responsabilità e solamente in seconda battuta e in subordine di essere gravato come dire di una quantità inferiore di danno però come dire credo che l'elemento vada considerato diverso invece il tema della successione degli amministratori nel tempo qualora più amministratori ti siano succeduti nel tempo in questo caso allora non avrebbe senso imputare l'intero danno ai primi amministratori cioè a coloro che erano amministratori nel momento in cui il capitale è andato perduto se poi altri li hanno seguiti perché certamente i primi hanno commesso un illecito sono stati responsabili di un atto commissivo ma gli altri di un atto omissivo sono responsabili per omissione per non essere intervenuti tempestivamente o tardivamente per non essere intervenuti allo stesso modo sarebbe in debito gravare solo gli ultimi amministratori di tutto il danno dal momento che la causa risale al mancato rilievo da parte dei primi amministratori e quindi evidentemente almeno mi pare che abbia senso immaginare una solidarietà fra tutti gli amministratori salva sempre una diversificazione in ragione della graduazione delle colpe senza che questo comporti una violazione del principio di conseguenzialità giuridica perché per i primi amministratori si tratta di un danno futuro cioè di un danno che è emerso in un momento successivo alla loro cessazione dalla carica ma che comunque è un danno prevedibile e conseguenziale al loro comportamento e come tale quindi non in violazione dell'articolo 1223 per gli altri quindi per gli amministratori successivi è un danno che consegue ad una loro omissione cioè ad una consapevolezza o mancata consapevolezza di nuovo colpevole non sono intervenuti per fare quello che non avevano fatto i loro predecessori e come tale e come tale anche in questo caso mi pare che gli anelli della catena si tengano si tengano io mi fermo e vi ringrazio dico solo una cosa di tre secondi quindi cerco di fare un passo successivo intanto non ero d'accordo con Elisabetta Petertini non eravamo d'accordo su quello che ci saremmo detti oggi però voglio dire la visione dinamica dell'impresa mi sembra che il curatore debba in ogni caso individuare dico sempre in ogni caso individuare gli atti di malagestio faccio la responsabilità degli amministratori è in ogni caso sempre una responsabilità per fatto proprio è quello che ha detto anche quando ha parlato Elisabetta Petertini del rapporto della responsabilità degli amministratori del tempo o perché hanno rubato i soldi dal cassetto o perché hanno messo di rilevare che l'amministratore precedente aveva rubato i soldi dal cassetto ma è sempre una responsabilità per fatto proprio non è mai una sorta di responsabilità oggettiva e di questo meccanismo bisogna che siamo ben consapevoli quando contestiamo l'atto di malagestio e forse il passaggio successivo di tutto quello che ha detto Elisabetta Petertini potrebbe essere che in realtà forse il criterio che il curatore debba semplicemente allegare il singolo atto di malagestio non è fuori luogo intanto però devo indicare escluso perché mi sembra che tutti noi escludiamo che il criterio del deficit patrimoniale sia una cosa che non sta in piedi tanto meno sta in piedi dopo che non esiste più il divieto di nuove operazioni perché sembra veramente che la giurisprudenza non abbia neppure letto la riforma del diritto societario del 2003 con la dipendenza dal sentiero come dicono gli americani cambia la legislazione ma noi continuiamo a dire quello che dicevamo fino a ieri e poi faccio l'ultima osservazione poi mi taccio davvero guardate che non permettere agli amministratori non creare un regime di responsabilità degli amministratori virtuoso cioè in cui si separano le responsabilità in maniera seria per quello che hai fatto per il singolo atto in base alle tue competenze vuol dire anche creare un grossissimo danno al sistema economico perché vuol dire che i professionisti seri nei consigli di amministrazione e nei società in crisi non ci vanno che è quello che è sempre accaduto nel nostro paese vuol dire che stai saltando la società alfa e chiedono a Tizio che è particolare esperto di andare in consigli di amministrazione e prendere il timone della società alfa questo dice no grazie quindi creare un sistema virtuoso vuol dire è anche uno dei 32.000 sistemi con i quali potremmo riuscire a creare stavo dicendo delle cose troppo grosse insomma a non andare più nelle classifiche del doing business di fianco al Congo dove siamo e quei paesi lì eh? al Burundi siamo in questo momento ecco ciò non toglie aggiungo io prima di dare la parola all'avvocato Leoni che secondo me una volta che comunque una diciamo un fatto illecito il curatore faticosamente è riuscito a trovarlo e purtroppo senza senza le scritture contabili non si è in grado di dimostrare il quantum del danno un criterio equitativo bisogna che ci sia cioè perché a quel punto il fatto che sia talmente tanto difficile riuscire a provare il danno cioè soccorre comunque il principio della valutazione equitativa cioè perché altrimenti comunque di fatto diventa ok non facciamo la responsabilità oggettiva agli amministratori ma non esonoriamoli anche da una responsabilità nel caso in cui sia impossibile provarlo su questo siamo su questo siamo d'accordo il problema è che si sta trasformando in un automatismo cioè ma sull'automatismo oramai tutti diciamo di no e siamo però in realtà perché quello che lei dice è vero e sono i due poli della questione cioè evitare che vadano esenti da responsabilità proprio i più reprensibili cioè quelli che hanno fatto quel che volevano e non ne hanno tenuto traccia giustamente e saggiamente verrebbe da dire nel contempo che non vadano soggetti a responsabilità indebita eccessiva gli uni e gli altri allontanando appunto i migliori sempre ricordiamo le parole della relazione allontanando le persone migliori e questo è verissimo allora non a caso io menzionavo quella scansione che una sentenza che a me piace del 2012 della Cassazione dice rispetto alle motivazioni che il tribunale deve offrire tu individui l'operazione la serie delle operazioni illecite mi fai capire perché non tanto perché le scritture contabili sono tenute in maniera scorretta ma perché non ci sono non c'è niente perché è impossibile andare a ricostruire il modo in cui la gestione è stata dinamicamente condotta allora tu mi dici che perché questo rende impossibile capire il nesso di causalità fra l'illecito e l'effetto pregiudizievole a questo punto scatta la presunzione sulla coincidenza fra il danno imputabile e lo sbilancio patrimoniale salva a questo punto la prova giustamente per vicinanza alle fonti della prova all'amministratore di dire sì le scritture non c'erano però le ho improvvisamente trovate in un cassetto e quindi eccoti la dimostrazione di quello che ho fatto anche in un'ottica perché poi nell'ambito come dire delle prove documentali offerte dagli amministratori non dimentichiamo che ci sono anche gli assetti adeguati cioè la pianificazione aziendale degli amministratori è un altro degli elementi che la riforma valorizza al massimo grado ed è una di quelle cose che secondo me se gli amministratori capiscono che servono a salvarli cominciano a farla sul serio perché nell'ambito di una pianificazione logicamente corretta nel momento di cui è stata fatta se poi le cose sono andate male perché nel frattempo i fratelli Lehman sono scappati con la cassa però il tutto si tiene quindi le prove documentali che l'amministratore se qualcuno scappa con la cassa siamo tutti contenti dal punto di vista della prova va bene comunque c'è l'avvocato Leoni che farà sì dunque io ovviamente sono chiamato qui a parlare di quell'inciso finale di quel richiamo come dire vagamente analogico o di una domanda buttata lì in modo un po' curioso dall'ordinanza se si possa in definitiva accomunare in qualche modo qualche principio isolato nella sottosistema cosiddetto della responsabilità sanitaria e qualche principio invece che si potrebbe affermare che la corte a sezione unita potrebbe o dovrebbe affermare in questa sede specificamente si parla della questione della mancata tenuta o della scorretta tenuta delle più 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 scorretta che mancata perché mentre le strutture contabili talvolta non ci sono le cartelle che ci sono sempre ma insomma dipende cosa c'è scritto prima di affrontare direttamente questo però io vorrei ripercorrere un pochino il percorso che mi sono fatto io con largo anticipo dal tardo pomeriggio di ieri e nella tarda mattinata di oggi per prepararmi male a quello che avrei detto qui che è stato un ripasso che ho trovato molto utile dei come dire delle pietre miliari che hanno portato appunto a quella che è oggi l'impostazione condivisa del quello che ho chiamato prima e che a buon titolo viene chiamato non è ovviamente un termine coniato da me il sottosistema della responsabilità sanitaria perché in realtà anticipando un po' delle conclusioni nell'ambito della responsabilità sanitaria i principi più generali che hanno portato appunto a questo inquadramento vengono usati a mio avviso in modo più severo che non in altri ambiti molto prossimi per far questo quindi come primo passo di questo percorso vi leggo brevemente una massima che io qui mi sono appuntato come massima standard cioè una sentenza non dico a caso ma insomma una massima di Cassazione che parla del principio generale della responsabilità sanitaria in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore deve provare l'esistenza del contratto o il contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia aggiungo che altre massime parlano della mancata risoluzione della patologia cioè anche non il fatto di aggravarsi ma di non essere guariti è sufficiente anche esso affondare con l'allegazione di qualificato qualificati inadempienze sono senza occhiali astrettamente idonee a provocare quale causa con causa efficiente il danno lamentato restando poi a caurico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso o che pur essendo vistato un suo inesatto inadempimento questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno per arrivare a questa massima standard bisogna partire anzitutto da una sentenza fondamentale nemmeno a sezioni unite del 1999 la 589-99 relatore segreto che ha per prima introdotto senza necessità poi che come in qualche caso accade le sezioni unite fossero chiamate a pronunciarsi sul punto perché una volta entrata con questa sentenza nell'ordinamento del diritto vivente questo concetto è stato subito accettato come chiedendosi perché non ci avevamo pensato da prima l'inquadramento nell'ambito contrattuale questo è il contenuto fondamentale di quella sentenza del rapporto medico paziente in relazione al medico del servizio sanitario nazionale cioè la trasformazione in contrattuale o da inadempimento contrattuale della responsabilità del medico col quale si instauri un rapporto basato sul contatto sociale questa è la locuzione di derivazione germanistica utilizzata che appunto fa scaturire per il medico degli obblighi analoghi a quelli del professionista liberale che invece al cliente paziente sia legato da un rapporto contrattuale classico dicevo questa sentenza estende al medico di sanità pubblica mentre voglio dire il medico ha dito in situazione libero professionale cioè di contratto effettivo ovviamente ha sempre risposto per la verità non è verissimo ma facciamo finta che sia così ha esteso dicevo a questo medico quella responsabilità contrattuale che si reputava sussistere invece pacificamente per le aziende sanitarie le strutture sanitarie private o private convenzionate o pubbliche fermo il fatto che quelle private anche qui dove ci si porti in un ambito di rapporto contrattuale è chiaro che il rapporto è contrattuale per definizione qui si potrebbe affrontare ma non lo faccio via il discorso che in realtà questo inquadramento nell'ambito contrattuale della responsabilità della struttura è sì dato per presupposto e per vero ma che in realtà le azioni fino a quel momento nei rapporti con la sanità pubblica erano normalmente fondate sull'articolo 2043 perché rivolte al medico e al suo preponente in quanto soggetto che risponde di fatto altrui lo dico così ma veramente non è questo l'ambito in cui parlarne dicevo aggiungo sempre a titolo come dire di curiosità che curiosità non è ma insomma mi pare che l'avvocato Guidotti abbia detto che nella Cassazione si trova tutto il contrario di tutto e qui abbiamo una delle molte delle molte prove dicevo si dà per scontato già nel 99 ma lo si dà per scontato prima lo si dà per scontatissimo nella dottrina attuale e nelle sentenze successive che il rapporto paziente struttura sanitaria pubblica sia un rapporto di natura contrattuale non contrattuale da contatto sociale ma nel momento in cui il paziente si reca al pronto soccorso del policlinico di Modena si stipula con la sua accettazione un contratto atipico di spedalità un'ordinanza 8093 del 2009 della Corte di Cassazione in tema di competenza per territorio nega che nel rapporto paziente struttura sanitaria pubblica sia invocabile il foro del consumatore quindi di residenza del danneggiato laddove questo rapporto sia integralmente gestito nell'ambito del servizio sanitario cioè gratis non rilevando il ticket perché oltre ad altre motivazioni non c'è un contratto dice la Cassazione nel senso che pur essendo regolata la responsabilità verso quel paziente dalle norme sull'inadempimento contrattuale però un contratto non c'è perché quello non paga segnalo quindi che nel 2009 in mezzo a 100 sentenze che mettono nell'ambito contrattuale vero quel tipo di rapporto a questi fini per la Cassazione contrattuale non è dicevo quindi sentenza del 99 che estende al medico pubblico la responsabilità da inadempimento contrattuale altra sentenza fondamentale 13.533 2001 la vicinanza della prova o meglio una sentenza che dirime un contrasto di giurisprudenza sulla ripartizione dell'onere della prova tra nell'ambito delle azioni possibili in tema di inadempimento contrattuale il contrasto era questo si riteneva che quando il creditore di una prestazione agiva per il suo adempimento dovesse limitarsi ad allegare l'inadempimento l'esempio banale non mi hai pagato una fattura dammi i soldi la prova dell'adempimento gravava pacificamente sul debitore che doveva portare la quietanza mentre si reputava che ove fosse richiesta la risoluzione e o il risarcimento del danno siccome l'inadempimento era elemento costitutivo della domanda del creditore fosse lui a doverlo provare secondo i principi dell'articolo 2967 dico bene chi vuol far valere un diritto in giudizio e le eccezioni questa sentenza risolve il contrasto dicendo che è sempre e solo necessario per il creditore allegare l'inadempimento con l'esclusione delle obbligazioni di non fare che proprio qui ci interessano pochissimo la motivazione di questa sentenza dove che quando viene commentata e riferita come dire viene viene incentrata appare incentrata sul concetto di vicinanza della prova in realtà usa il concetto di vicinanza della prova almeno per come l'ho letta io come rafforzativo come argomento rafforzativo di un ragionamento che però parte da un presupposto diverso cioè che l'inadempimento possa essere semplicemente allegato in quanto non è elemento costitutivo anche nella domanda di risoluzione o di risarcimento lo semplifico un po' perché poi devo arrivare anche un po' a parlare dell'argomento di oggi è vero però che nell'ambito di questo discorso di vicinanza si inquadrano poi quelle sentenze che vedremo fra un attimo in tema di cartelle cliniche il terzo passaggio anche se qui non è in realtà a mio parere un passaggio così come dire un'altra pietra miliare assoluta come lo sono le due sentenze che ho appena invece citato sono quel corpo di quel gruppo di sentenze credo dieci se non undici del 11 gennaio 2008 di cui ha parlato anche l'avvocato Guidotti che rappresentano un pochino più che la soluzione di un contrasto una summa dello stato dell'arte della responsabilità sanitaria summa che devo dire in larghissima percentuale per non dire totalmente è tuttora alla base del sistema in realtà alcuni contrasti o alcune questioni di particolare rilevanza ancora non decise in modo ancora non decise dalla Cassazione ma che provenivano spiego un passo indietro queste sentenze pur riguardando ad ampio spettro la responsabilità sanitaria nascono da una serie di vicende giudiziari che coinvolgono un numero importante di persone per cose altrettanto importanti relative a danni da emotrasfusioni cioè soggetti che in un ambito temporale piuttosto vasto hanno contratto l'epatite C o il virus HIV o altre malattie trasmissibili per via di sangue credo l'epatite B e qualcosa ma che sono minori quindi è un problema anche di importanza sociale molto rilevante perché purtroppo di queste infezioni si sono verificate per molti anni e su questi punti c'erano questioni di prescrizione e altre cose insomma sulle quali era necessaria una pronuncia delle sezioni unite quanto ai contrasti sull'ambito stretto della responsabilità sanitaria chiamiamola ordinaria da prestazione propria c'era in verità più che altro un contrasto apparente su un punto di nesso causale e qui uso l'espressione nesso causale nella modalità più ampia possibile perché è una questione intricatissima tra le sezioni unite penali e le sezioni civili della Cassazione per intenderci nel 2002 la Corte di Cassazione penale pronunciò una sentenza notissima la sentenza francese sulla quale fra l'altro si tenne qui organizzato dalla Camera Penale un convegno importante in occasione del decennale credo presente anche l'estensore sentenza che mise una parola finale su un punto di causalità che è quello del grado di probabilità a cui si deve giungere nel giudizio controfattuale per stabilire ovviamente con un'operazione logico virtuale se sostituita la condotta effettivamente tenuta quella doverosa quel fatto si sarebbe verificato o no fino a quel momento c'erano opinioni discordanti e anche in sede penale vigeva principalmente la cosiddetta regola del 30% cioè un grado di probabilità molto basso per affermare una responsabilità penale che richiede insomma nel 2002 la sentenza francese invece sposta molto in alto l'asticella di questo giudizio controfattuale di questo giudizio causale dicendo che ci vuole una probabilità prossima alla certezza in ambito civile si continua senza troppo chiedersi il perché diciamo così invece ad accontentarsi di percentuali più modeste ad usare locuzioni un po' vaghe a parlare di probabilità le sentenze del 2008 per il vero ispirandosi a piene mani a una precedente sentenza del settembre se ricordo bene 2007 estensore Travaglino posso fare lo spot pubblicitario dire che fra un mesetto sarà qui insieme al professor Ponzanelli a parlare di responsabilità civile ad ampio spettro chiariscono che questo contrasto fra ambito civile e ambito penale non sussiste perché i due ambiti sono diversi e distinti rinviando anche alla riforma notoria insomma del codice di procedura penale dell'89 quindi al venir meno della pregiudiziale che il vecchio codice di procedura penale prevedeva all'articolo 3 quindi allo sganciamento pressoché totale del giudizio penale da quello civile altre sentenze precedenti e importantissime hanno discusso di questa differenza in altri ambiti portando alle sentenze di San Martino sull'articolo 2059 ma anche questo ci porterebbe lontanissimo fatto sta che le sezioni unite del 2008 fissano come criteri per l'imputazione del fatto cioè per determinare se una determinata una certa condotta commissiva o omissiva si possa ritenere causa di un determinato danno il criterio del più probabile che non o meglio la scaletta è questa penale la quasi certezza al di là di ogni ragionevole dubbio civile una probabilità superiore al 50% poi terzo e ultimo gradino la perdita di chance che anche qui vi risparmio perché anche questa è questione ampiamente discussa dunque nell'ambito di tutto questo che ho sintetizzato malamente arriviamo alla sentenza sulla se la trovo eccola qui no eccola qui una sentenza anche questa diciamo così standard questa è una massima del 2010 in tema di responsabilità professionale del medico le omissioni nella tenuta della cartella clinica al medesimo imputabili rilevano sia ai fini della figura sintomatica dell'inesatto adempimento per difetto di diligenza in relazione alla previsione generale dell'articolo 1176 secondo com sia come possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva poiché l'imperfetta compilazione della cartella non può in linea di principio tradursi non danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria dunque premesso che il medico ha degli obblighi di natura contrattuale di diligenza propria del buon medico quindi di diligenza qualificata 1176 secondo com uno di questi obblighi è tenere una cartella clinica completa corretta veritiera che consenta a chi la consulti a posteriori di ricostruire il percorso curativo a cui è stato sottoposto quel paziente la tenuta imperfetta della cartella è dunque un inadempimento al dovere di diligenza tipico professionale in più diventa come dire lo strumento che apre la porta alla presunzione di una condotta non corretta nella prestazione sanitaria propriamente intesa non però una presunzione della misura del danno e neanche una presunzione che le conseguenze dannose che il paziente lamenta non di per sé sola almeno siano imputabili a una condotta scorretta perché qui entra un altro interessante problema cioè non è chiarissimo e non è sempre nello stesso modo risolto a chi tocchi l'onere e la prova di una serie di queste circostanze che vanno insieme a formare come dire la relazione causale abbiamo visto dalla prima massima standard che è fuori di dubbio che il paziente debba provare contratto o contatto debba allegare in modo qualificato l'inadempimento non si può limitare a dire non hai adempiuto tanto che sto peggio ma non hai fatto la tal cosa che mi avrebbe consentito di stare meglio o hai omesso di fare la tal cosa o meglio non hai fatto quanto la diligenza tipica le linee guida i principi generali le conoscenze proprie del buon medico ti imponevano di fare o hai fatto qualcosa in contrasto con quegli stessi principi e va individuato cos'è questo qualcosa va allegato in modo vestito qualificato a quel punto quindi spetta al medico fornire la prova di un fatto che si inserisca nella normale serie causale in modo non prevedibile e non prevenibile per liberarsi dall'obbligo risarcitorio quindi deve provare o di aver adempiuto o che l'inadempimento non gli è imputabile questo accertamento poi ne richiede anche un ulteriore quello che abbiamo detto il giudizio controfattuale qua su chi sia il soggetto onerato di provare o di fornire gli elementi necessari a questa operazione logica è un pochino meno chiaro in ambito sanitario però tendenzialmente tutto si riporta al medico e qui vengo un pochino al succo della questione cioè o meglio ci arriviamo con ancora un paio di passi credo di aver anticipato prima che nell'ambito sanitario questi principi che si badi bene quanto alla famosa sentenza del 2001 sulla ripartizione dell'onera provi in ambito di inadempimento riguardano qualsivoglia tipo di contratto quindi ragionevolmente dovrebbero essere applicati nello stesso modo agli amministratori all'appaltatore che mi ha costruito la casa all'avvocato al medico così di fatto non è almeno per come la vedo io dal punto di vista del difensore di medici e strutture sanitarie a me pare di essere trattato un po' peggio di altre categorie professionali per un verso questo non mi dispiace perché come vi dirò ora una delle categorie professionali che mi sembra trattata un po' meglio è la nostra la vostra perché io adesso sono diventato giudice il perché è inutile indagarlo però in ambito di responsabilità d'avvocato non dico la prova del nesso causale fra l'inadempimento e il danno premesso che l'inadempimento in sé ove provato non è prova che il danno ne sia conseguenza cioè l'obbligo risarcitorio non nasce dall'inadempimento ma dalla prova che quell'inadempimento ha causato il danno nell'ambito medico si tratterà di valutarlo con una serie di operazioni logiche e de facto spesso e volentieri in grande misura con una consulenza prima si è detto insomma del ricorso alle consulenze un po' forse eccessivo qui si fatica a dire che è eccessivo ma una sfumatura di abdicazione alla funzione decisionale del giudice e istruttoria dell'avvocato io ce la vedo e non una sfumatura e ne ho parlato l'anno scorso al convegnetto che abbiamo organizzato al convegnetto convenione perché c'era il presidente del tribunale proprio sull'argomento della consulenza d'ufficio io poi ho il vizio di aprire delle parentesi dopo mi perdo torniamo all'avvocato dicevo appunto mentre per il medico è pacifico che sta a lui provare l'incolpevolezza e dunque anche fornire in qualche modo gli elementi per il giudizio controfattuale in ambito di responsabilità d'avvocato le sentenze che non dicono pari pari che il nesso causale fra inadempimento e danno lo deve provare il cliente dicono comunque che va fatta un'indagine ovviamente su questa relazione e che gli elementi per formulare questo giudizio li deve fornire il cliente e badiamo bene qui si tratta di un giudizio assai più complesso dove oltretutto il cliente anche culturalmente va bene che è assistito da un avvocato ma è assai meno vicino alla prova mi spiego in cosa consiste l'accertamento del nesso causale in una causa di responsabilità d'avvocato premesso che l'accertamento dell'indempimento è in genere banale perché più delle volte si tratta di dire hai fatto l'appello un giorno in ritardo o non hai portato per tempo la memoria con i documenti e i testimoni che mi facevano vincere la causa o ti sei fatto prescrivere in mano i miei diritti e quando hai iniziato la causa era tardi insomma questi sono i casi tipici anche perché è difficile sindacare invece scelte di tipo strategico ma il nesso causale riposa appunto su un giudizio contrafattuale cioè sul rifacimento incidentale più o meno esteso del giudizio che non si è potuto vedere risolto nel merito per l'inadempimento dell'avvocato che è una cosa non da poco tanto più estesa è il contenuto di questa prova la pretesa che il tribunale avanza di documenti e quant'altro quanto più difficile ovviamente si rivela per il cliente ottenere ragione quindi senza indagare oltre sul approfondire oltre l'argomento è evidente che quei principi che abbiamo visto essere dettati per l'inadempimento contrattuale in generale che in ambito di inadempimento professionale non hanno veramente ragione di essere trattati diversamente de facto diversamente sono trattati in situazioni molto vicine quali sono la responsabilità dell'avvocato la responsabilità del medico questo per dire che la quell'inciso quella parte finale che è un po' così buttata lì come una chiusura ma come una riflessione ad alta voce da per presupposto ecco sollecita in me questa considerazione innanzitutto il fatto sintomatico che si parli del medico e non dell'inadempimento contrattuale in generale o dell'avvocato o di altro soggetto il che giustifica quella piccola lamentela che già ho fatto cioè che i miei clienti sono trattati peggio di tanti altri per il resto non posso che concordare con quanto si è detto finora cioè semmai quel problema di vicinanza della prova certo è corretto ritenere che uno non possa avvantaggiarsi di una condotta illecita barra inadempiente per vincere una causa per mancato assorbimento della prova e della controparte cioè è chiaro che dire non ci sono le scritture contabili quindi tu curatore non puoi provare il danno insomma non basta ma diciamo però che questo vale in termini di presunzione dell'inadempimento e del senso causale inteso come riferibilità di un ipotetico danno a quella condotta ma non vedo come possa servire come parametro per quantificare il risarcimento certo forse ci sta sotto il profilo della equità nel senso che l'articolo 1226 dice che se il danno è provato nella sua esistenza ma è impossibile o troppo difficile provarlo nel suo ammontare il giudice lo liquida equitativamente possiamo ritenere forse che il concetto qui espresso serve a dire se abbiamo raggiunto la prova di un danno causalmente connesso a una condotta inadempiente si apre lo spazio per una liquidazione equitativa che poi quella liquidazione equitativa sia correttamente effettuata con lo sbilancio fra attivo e passivo francamente non è il mio mestiere saperlo dire ecco aggiungerei se mi è consentito se i presenti non sono già svenuti due cose che col tema di oggi due tre cosette non c'entrano nulla ma che sono cosette pratiche che riguardano anche il nostro tribunale che riguardano la materia specifica della responsabilità sanitaria prima di questo aggiungerei perché me l'ero annotato qui e poi non l'ho detto che un'altra particolarità della responsabilità sanitaria è che in quell'ambito almeno per le sentenze del 2008 sentenze se si riunite parrebbe che la distinzione da tutti richiamata fra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato sia da considerare abolita inesistente un concetto che non tutt'altro si dovrà parlare di se ricordo bene obbligazione da prestazione una roba così mentre da differenza fra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato per esempio in altri ambiti ricorre quotidianamente e devo dire anche in tante sentenze in tema di responsabilità sanitaria salvo poi essere ridotta di fatto il corollario quello sulla esenzione di responsabilità per colpa lieve nei casi di particolari difficoltà essere ridotta a ipotesi di scuola quasi mai verificatasi in pratica un'altra cosa che ho sentito dire prima dall'avvocato Guidotti non mi ricordo quale fosse ma mi sono preso un appunto un po' criptico ecco è sul sì il concetto del contatto sociale o meglio delle ho letto qualcosa qui vado veramente a memoria poca di qualche ipotesi di estensione del concetto di responsabilità contrattuale da contatto sociale al di fuori dell'ambito sanitario però me lo sono segnato qui ma non mi ricordo francamente perché quindi l'abbiamo detto no ecco passo in estremissima sintesi a quelle quattro comunicazioni di servizio ricorderete che all'inizio spero che lo ricordiate ho detto che fino al 99 i medici rispondevano i medici di sanità pubblica eccetera eccetera ex articolo 2043 molti avranno letto su anche giornali generalisti stampa generalista ma su riviste giuridiche eccetera di una interpretazione dell'articolo 3 del decreto sanità o decreto balduzzi che nel istituire una sorta di non punibilità penale per la colpa lieve fa salvo però l'articolo 2043 ci sono state due o tre sentenze molto pubblicate e commentate recenti del tribunale di Milano dove si dice che questo vuol dire è che il legislatore ci ha riportato esclusivamente nei rapporti paziente medico di sanità pubblica all'ambito della responsabilità aquiliana in quel caso ovviamente se il paziente ha convenuto anche il medico dovrà provare danno colpa e nesso causale io sono assai poco convinto che questo sia il significato di quella mal riuscita norma di diritto ma è noto anche che l'utilità pratica di questo è assai modesta perché comunque rimane l'azione contrattuale con tutti i vantaggi che ne derivano nei confronti della struttura e da molto tempo chi se la piglia con i medici in ambito civile i medici in realtà li lascia dove sono per non crearsi dei guai inutili perché ha maggior ragione ora se per quelli deve provare la colpa col 2043 il medesimo decreto Balduzzi prevede che i danni da responsabilità sanitaria vengano risarciti con riferimento alle tabelle previste dal codice delle assicurazioni tabelle che in realtà esistono soltanto per ora e chissà per quanto per i danni che vanno dall'1 al 9% di invalidità ma che in teoria dovrebbero un giorno arrivare anche per quelli dal 10 al 100 e qui vengo proprio alla realtà modenese appena entrata in vigore questa norma io chi come me si occupa di queste cose i nostri clienti ci siamo chiesti se questa norma fosse applicabile all'epoca della liquidazione ovvero soltanto ai fatti verificatisi dopo le entrate in vigore io l'ho chiesto alla prima occasione a un magistrato che si occupa di questa materia che mi ha detto abbiamo fatto una riunione e abbiamo stabilito che la norma abbiamo per ora deciso di interpretarla nei termini l'abbiamo stabilito di grossa che si tratti di norma sostanziale e quindi la applicheremo solo ai fatti successi dopo devo annotare che forse non si sono parlati proprio tutti e che io sono dell'opinione opposta così come la dottoressa Rimondini che ha fatto svariate sentenze l'ultima me l'hanno comunicata tramite PCT stamattina dove dice si applica Balduzzi o meglio i danni le tabelle da micro permanente al momento della liquidazione salvo poi liquidare un separato danno morale in misura equitativa laddove la Corte Costituzionale a ottobre scorso come molti sapranno nel pronunciare la perfetta rispondenza a Costituzione dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni ha detto confermando peraltro l'opinione che la Cassazione aveva già espresso fin dal 2011 che nell'ambito di quelle tabelle ci sta tutto con la possibilità di una personalizzazione massima pure prevista dalla norma del 20% punto ma non si può che non è che può essere il danno da sofferenza morale se allegato e provato quindi di fatto a Modena ora c'è un almeno le sentenze che ho visto no ne ho viste anche di segno opposto sia chiaro almeno due però le ultime dottoressa Rimondini sono in questi termini e sono state sicuramente scritte prima o senza diciamo avere visto questa corte costituzionale perché non la non la richiamano ma però il ragionamento sostanzialmente è quello aggiungo un'altra considerazione che anche qui mi ero appuntato non mi ricordo bene perché ma insomma però è una cosetta che una curiosità diciamo così ah ecco no no mi è venuto in mente si dice che la responsabilità contrattuale o meglio che il rapporto che si crea fra paziente e struttura sanitaria istituisca degli obblighi protettivi anche verso soggetti diversi dal paziente i quali ugualmente profittano dunque delle regole della responsabilità da inadempimento questo lo si legge pacificamente per esempio in quelle non numerosissime ma esistenti e importanti sentenze che riguardano i cosiddetti danni da wrongful life cioè da nascita indesiderata come si dice tant'è che vengono estesi appunto i diritti risarcitori al marito ai figli e quant'altro da ultimo con molte critiche addirittura al nascituro ma questo per ragioni diverse proprio in ragione di questi obblighi protettivi anche qui non tutti però e non sempre la pensano così sempre la dottoressa Rimondini in talune circostanze ha ritenuto per esempio che per esempio in caso di morte del paziente gli aventi diritto seppure per danni iure proprio quindi i congiunti che agiscano per il danno chiamiamolo morale da perita del congiunto o da perita del rapporto parentale chiamiamolo come vogliamo possano agire soltanto con l'articolo 2043 perché il rapporto contrattuale era con il paziente defunto e quindi possono azionare ex contractu eventuali danni iure successiones ma non iure proprio questo però contrasta come dicevo con opinioni contrarie ovviamente anche in Cassazione e con quel discorso degli obblighi protettivi nel senso che obblighi protettivi vuol dire che l'obbligazione di trattare bene il paziente si estende ai suoi parenti stretti insomma anche su questo c'è spazio ovviamente il 2043 è una questione importante nel senso che sposta i termini di prescrizione sposta gli oneri probatori la ripartizione degli oneri probatori cosa interessante questi sono come dire piccoli flash su cui offro una riflessione non delle soluzioni per carità e con questo smetto di infastidire allora noi abbiamo finito non so se ci sono delle domande se abbiamo tempo per le domande se qualcuno le vuole fare se no possiamo chiudere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti